Pippo Baudo, la verità svelata, storia, retroscena e salute. Ciao e benvenuti, affezionati spettatori di Top 5 News Italia. Oggi vi immergeremo nel mondo di una delle icone più amate della televisione italiana, Pippo Baudo. Prima di cominciare, vi chiediamo di iscrivervi al nostro canale e di attivare le notifiche con un clic sulla campanella, così non perderete mai le nostre esclusive notizie. Pippo Baudo, il re dei presentatori, ha segnato epoche nella tv italiana. Ma dove si è nascosto negli ultimi anni? Cosa c'è dietro la sua scomparsa dalle scene? È un mistero che sveleremo insieme. Dopo una carriera luminosa sulla Rai, la presenza di Baudo in tv è andata affievolendosi. L'ultima volta che lo abbiamo visto condurre è stato nel 2016-17, ma cosa è accaduto da allora? Il carismatico presentatore si è ritirato dalle luci della ribalta, facendo sporadiche apparizioni e ospitate. Ma cosa fa oggi Pippo Baudo? Nonostante le speculazioni sulla sua salute, possiamo confermare che è in ottima forma. Dopo aver lottato coraggiosamente contro il cancro negli anni 70, il suo spirito combattivo lo ha mantenuto forte. Vive nella sua amata Roma, preservando la riservatezza sulla sua vita privata. Parlando di vita privata, la storia d'amore con Katia Ricciarelli ha suscitato interesse e domande. Un vicino di casa ha rivelato che la mancanza di dialogo ha segnato la fine della loro relazione. Ma c'è di più. Il sogno di Katia di diventare madre si è infranto, gettando un'ombra sulla loro storia. In definitiva, Pippo Baudo è un'ispirazione e una leggenda della tv italiana. Nonostante le voci sulla sua salute, possiamo tranquillizzarvi. Gode di ottima forma. E ora, ecco la domanda per voi. Qual è il vostro ricordo preferito legato a Pippo Baudo? Lasciate la vostra risposta nei commenti e continuate a seguirci per ulteriori retroscena e notizie dal mondo dello spettacolo. Ci vediamo presto! Grazie a tutti!